Roxy, 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 Roxy Ciao a tutti, io sono Roxy ed oggi sono qui con Spanky Valentine TV Ed oggi faremo la Gingerbread House Challenge La sfida delle casette di marzapane Quindi abbiamo tutto l'occorrente E le regole sono semplicissime Dobbiamo fare la casetta più carina In 15 minuti E poi mettiamo le foto su Twitter E voi dovete votare E chi perde deve distruggere La casetta che ha appena fatto E iniziamo 15 minuti Go Ok Ok, ce la possiamo fare Funziona, rega, funziona Ok Ok, 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 ok Oh no, no Oh no Ah, tu è già cascata, rega Tieni la Ragazzi, le ho fatte male Ok, ragazzi Quando le ho fatte Ho fatto il tetto troppo piccolo Quindi Quindi mo La casa c'ha un buco No, no, no I have a house Non fall Ok No, no, it's falling Mine is falling, I feel it Ok Looking good Ok 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 Mettevo l'alberello devo decorare ragazzi devo vedere che sto a fa 5 minuti ragazzi ragazzi sto a fa la porta la finestra wow fatto ok adesso famo le foto le mettiamo su twitter e voi dovete votare qual è la più carina non vi dicevo qual è di chi quindi ragazzi le votazioni sono finite e ha vinto quella di sinistra quindi la mia adesso spanky deve distruggere la sua casetta che ha montato con tanto amore e vediamo che cosa userà perché può usare le mani può usare le caramelline vediamo vediamo be careful be careful be careful è tutto qua spero che questo video vi sia piaciuto se volete la ricetta della casetta e anche della glassa ve la lascio nella descrizione e pure nella i e se ancora non ci sta la posterò molto presto e adesso andate sul suo canale se andate da questo video al suo video sotto al suo video scrivete i love gingerbread houses amo le casette di marzo a fare così li confondiamo tutti e non dimenticatevi di iscrivervi al canale mettere mi piace commentare condividere il video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.